Ciao a tutti, eccoci qua, benvenuti, benvenuti anche per questo video e per prima cosa ovviamente vai a iscriverti al canale, al canale YouTube ovviamente Massimo Tramasco ma anche agli altri miei canali YouTube, crescita personale, felicità benessere, amore autostima, ti ricordo di notare che sul canale, sui vari canali ti puoi anche abbonare, quindi vai sul canale YouTube, tutti i miei canali, iscriviti e abbonati, se ti abboni potrai ottenere anche diciamo diverse possibilità, ma veniamo, ehi tu, delusa, guarda che chi troppo abusa, diceva Vasco Rossi, divertiti e fai il tuo show, che questo è il sesso e il rock'n'roll, no ma per dire che cosa, per dire che molte donne sono deluse, sono deluse dagli uomini ma purtroppo è causa, la loro stupidità e la delusione, perché che causa del suo male pianga se stesso, quali sono le fonti di delusione femminili fondamentalmente? Le fonti di delusione femminile sono tante, beh ad esempio parlando di differenza d'età, le tardone o malgascione che si innamorano del toy boy, ad esempio, beh allora niente di male di innamorarsi del toy boy, toy boy chi è il toy boy? Il toy boy è un uomo che ha almeno dieci anni di meno rispetto alla donna, ora niente di male, nulla di male nell'innamorarsi del toy boy ovviamente, anzi metto un po' più la luce, anzi può anche andare molto bene innamorarsi del toy boy, però se poi inizi a sperare, e questa è la delusione, che il toy boy si innamori di te, sei solo una delusa, perché il toy boy, diciamo così, il maschio più giovane, ha soltanto due possibilità, si interfaccia con una donna solo per due motivi, o perché vuole, diciamo, lui pensa di volere sesso a basso impegno, cioè della sera appuntamente al parcheggio del cimitero, oppure perché magari va alla ricerca di una donna benestante che in qualche modo possa scroccare, è quello che poi diciamo tipicamente funzionava con le donne, no? Anche con la donna magari più giovane che va con l'uomo, più anziano, lo fa soltanto per, diciamo, scroccare normalmente. E questa è una delle cose. E questa è una fonte di delusione, quindi niente male andare col toy boy, ma non devi innamorarti, non devi assolutamente innamorarti, perché se ti innamori resterai delusa, appunto, è inevitabile. Un'altra fonte di delusione sono gli uomini sposati. Altra fonte di delusione sono gli uomini sposati. Gli uomini sposati, lui non lascerà mai la moglie, a meno che, poi vedremo in un altro video, non sia la moglie a lasciare lui. Ma questo è un dato di fatto, è un dato di fatto questo. Persone che stanno, diciamo, con uomini che sono sposati e che non lasciano la moglie, devono solo chiudere la relazione. Cioè, il problema è che non devi essere delusa, non devi lamentarti, puoi accettare anche le briciole, ma l'importante è essere consapevole, no? Se una persona sta due anni, tre anni con qualcuno che per dire ti vuole vedere solo una volta a settimana, per fare un esempio, qualunque sia il motivo ti può vedere solo una volta a settimana, non importa qual è il motivo. Il problema è che se tu accetti non è che poi cambierà. Cioè, la delusa chi è? È quella che si nutre di speranze, quella che spera che finalmente un maschio cambia. Ma se uno non cambia, allora il tempo, una relazione deve raggiungere il massimo in due anni. Cioè, se non raggiunge il massimo, il top, in due anni, difficilmente andrà oltre. Cioè, da quando tu conosci una persona, se non arrivi a un matrimonio, una convivenza, comunque, a raggiungere l'obiettivo in due anni, non ci arriverai più. Molto difficilmente ci arriverai. Per carità, poi ci sono persone che, poi ci sono persone che continuano a restare anche dieci anni a sperare, ma la maggior parte sono deluse. E poi si lamentano. Quella cosa stupida, cioè, è che si lamentano, no? Allora, quindi, la fonte di delusione quali sono, fondamentalmente? Uno, abbiamo detto il toy boy. Il toy boy va benissimo, ma non te ne devi innamorare del toy boy. Perché se ti innamori del toy boy, la storia è finita. Cioè, se tu ti vai a innamorare del toy boy, praticamente non hai più possibilità. Quindi, toy boy va benissimo, ma non ti devi innamorare. Perché se ti innamori, basta, hai finito, hai toppato tutto. Seconda cosa sono gli uomini sposati. Neanche degli uomini sposati ti devi innamorare. perché se ti innamori degli uomini, tra virgolette, sposati, e questi qua ti tratteranno, diciamo, come trasgressione. Tra l'altro, c'è un'altra cosa, un'altra fonte di delusione verso gli uomini sposati. Qual è? Beh, un'altra fonte di delusione verso gli uomini sposati è quella di, diciamo, rendersi conto che quando l'uomo sposato diventerà, non sarà più, diciamo così, per qualche caso strano, magari, lascerà la moglie e si metterà con te, dopo ti farà le corna. E questo devi considerarlo, dopo ti farà le corna. Ma è normale, perché questa è un'altra assurdità per cui molte donne restano deluse. Se un uomo sposato lascia, tra virgolette, tradisce la moglie e poi dopo lascia la moglie per mettersi con te. Ma mi spieghi per quale motivo dopo non dovrebbe tradire anche te. Cioè, intanto al 90% non lascerà la moglie, perché tu rappresenterai la trasgressione. Ma se poi un giorno lasciassi la moglie, ma è evidente che farà le corna a te. E non puoi neanche lamentarti del fatto che ti farà le corna. Perché che fosse una persona che tradisce, che fosse una persona che tradisce, perché non dovrebbe tradire pure te se tradiva la moglie? Che cosa c'hai di meglio della moglie? Non c'è assolutamente niente di meglio della moglie. Anzi, probabilmente la moglie aveva più potenza nei tuoi confronti. Poi, il libertino. Il libertino è un'altra fonte di delusione della donna, della donna, della malgasciona o anche della donna più giovane. Il libertino anche ha questa caratteristica. E rasco sui libertini. Chi sono i libertini? I libertini sono semplicemente uomini che, per diversi motivi, ad esempio, sono un po' dei Peter Pan, oppure non gli frega niente di avere una relazione. Ma diciamo che potenzialmente tutti gli uomini vorrebbero essere libertini. Diciamo un po' che l'indole è questa. Cioè, diciamo la verità, che tutti gli uomini il sogno di ogni uomo è di essere libertino. Infatti, per tutti gli uomini il matrimonio, tra virgolette, viene visto come, diciamo, viene visto come una gabbia. Questo devi tenerlo presente. Il matrimonio, per qualunque uomo, viene visto di fatto come una gabbia. Viene visto di fatto come, viene visto di fatto come un, come una cosa altamente, altamente negativa. Viene visto di fatto come altamente negativo. E questo è evidente, no? Tutti gli uomini vorrebbero essere libertini. Alcuni, diciamo, in realtà, invece, magari, vorrebbero crearsi poi una relazione, vorrebbero crearsi poi una relazione magari diversa. Ma, comunque, lo fanno perché sono, perché sono, diciamo, non dico costretti, ma la vita li porta a questo. Ma, comunque, poi ci sono dei libertini incalliti. La figura del libertino, la figura del libertino, come dire, più nota cinematografica, ma anche, diciamo, il libro della letteratura, è il Visconte di Valmont. Non so se avete visto le relazioni pericolose, il film Le relazioni pericolose. Questo è, diciamo, questo è uno degli esempi cinematografici, ma molto interessanti, di libertinaggio. Ora, che caratteristiche ha il libertino? Beh, il libertino cerca donne da sedurre, fondamentalmente, perché il suo obiettivo è quello della seduzione. Quindi è fondamentale, diciamo, per una donna imparare, diciamo, a riconoscere di avere a che fare con un libertino. Perché talvolta il libertino si mimetizza. Non è che si mimetizza, diciamo, non è che si mimetizza in diverse modalità. Perché, ad esempio, il Visconte di Valmont non è che negava di essere libertino, anzi lo evidenziava proprio. Quando la duchessa, che voleva sedurre, ha detto, ma di lei parlano, so che di lei parlano, cioè lui, il Visconte di Valmont, disse alla duchessa, le avranno detto cose negative su di me, che io, insomma, sono un grande libertino. Lei, sì, sì, bene, io sono molto peggio. Cioè lui è ancora, diciamo, è ancora riuscita a mettere in atto diverse strategie. Quindi, comunque, qual è il concetto di fondo? Che se tu hai a che fare con un libertino, se tu hai a che fare con un libertino, devi assolutamente, se tu hai a che fare con un libertino, devi assolutamente evitare di prenderlo in considerazione. Anche qua può essere fonte di sofferenza avere a che fare con un libertino. Quindi, e questo è un altro errore che fanno molte donne, per cui restano molto deluse, cercare di cambiare gli uomini. Ti posso garantire che è molto più facile cambiare uomo che cambiare un uomo. La speranza di poter cambiare un uomo è una speranza vana, che spesso non produce nessun frutto. Quindi devi cercare assolutamente di evitare questa situazione. Quindi, se tu riesci a evitare i libertini, se tu riesci a evitare gli sposati, se tu riesci a evitare i narcisisti, che è un'altra categoria, quelli che ti vogliono cambiare, quelli che ti vogliono manipolare, probabilmente non resterai delusa. Altrimenti sarai delusa. Ma la delusione, ripeto, è soltanto colpa tua. La delusione nasce soltanto dal fatto che tu dentro hai delle aspettative, perché hai bisogno d'amore. E quindi, ogni volta che una donna ha bisogno d'amore, finirà per prenderselo in quel posto. Fondamentalmente, se lo prenderai in quel posto, che ti piaccia o che non ti piaccia, te lo piglierai proprio in quel posto, perché il tuo bisogno sarà quello che ti farà cadere. Quindi, se non vuoi più essere delusa, devi seguire queste indicazioni. Devi avere degli obiettivi alti, ma degli obiettivi legati al tuo stile di vita, non degli obiettivi legati a Ciccio, Pasticcio o a Tizio, a Caio, Sempronio. Devi avere degli obiettivi alti nella tua vita, devi avere delle, diciamo, aspettative basse, e devi mettere uno sforzo continuo nel raggiungere l'obiettivo. E soprattutto devi andare a discernere, diciamo, l'obiettivo dallo strumento. Gli esseri umani sono degli strumenti, non sono mai degli obiettivi. Questo è molto importante. Gli esseri umani sono sempre degli strumenti e non sono mai degli obiettivi. Nel momento in cui tu ti incaponisci su qualcuno, è finita per te. Ma, per saperne di più, seguimi ovviamente sul canale YouTube Massimo Terramasco, iscriviti al canale, poi ci sono anche gli altri miei canali YouTube, vai su YouTube, crescita personale, felicità benessere, amore autostima, e tra l'altro sui canali c'è anche la possibilità di abbonarsi. Quindi ti aspetto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!